Dopo tre giorni di riposo il Pescara tornerà ad allenarsi alle 16.30 a Silvi, sotto osservazione Franchini e Pellacani che oramai sono sulla via del completo recupero. Pescara-Gubbio, la gara in programma lunedì 2 ottobre con inizio alle 20.30 sarà diretta da Simone Galipò della sezione di Firenze. Contro la squadra Umbra in attacco si candida per una maglia da titolare Tommasini che molto probabilmente sarà confermato Cuppone. Sta bene lo stesso Vergani, come dire per Zeman l'imbarazzo della scelta. L'ultimo precedente tra Pescara e Gubbio risale al match di Coppa Italia del mese di novembre di quasi un anno fa. In quella circostanza all'Adriatico-Cornacchia si imposero gli ospiti per 1-0.